E' stato ritrovato all'interno di una finestrella dello scantinato l'innesco dal quale poi si sono propagate le fiamme e a seguire il fumo che in pochi minuti ha invaso l'intera palazzina del villaggio oriente ad Arezzo ed ha costretto i vigili del fuoco ad intervenire per evacuare tutte le persone presenti. Ci ha somigliato di grande fumo? Guardi le gomme che erano. Si tratterebbe dunque di un incendio doloso, quello della scorsa domenica notte quando attorno alle 23.40 a causa del fumo una ventina di persone erano state fatte uscire da loro appartamenti dei pompieri, due dei condomini erano stati poi portati al pronto soccorso perché lievemente intossicati. Le fiamme erano partite da uno scantinato, la ricostruzione dei vigili del fuoco e soprattutto il ritrovamento dell'innesco dunque adesso confermerebbero l'ipotesi del roggo doloso. Proseguono intanto anche le indagini portate avanti dalla squadra mobile della questura di Arezzo che al momento si starebbero concentrando sul proprietario di un appartamento del condominio oltre che della cantina dalla quale sono partite le fiamme. Al momento però non ci sarebbe alcuna conferma, le indagini proseguono a 360 gradi.